Cinefact Per volere di Ridley Scott, l'interno delle uova di Alien era formato da veri stomaci e veri cuori di mucca Tu pensa che odore c'era in quel set Cinefact Il personaggio in assoluto più rappresentato nella storia del cinema è Sherlock Holmes I film su di lui sono 207 Il primo è del 1902 e dura 30 secondi Cazzo lo risolvi subito il caso Sherlock? 30 secondi, 5 secondi fai vedere cosa succede 10 secondi fai vedere come lo risolvi E gli ultimi 15 secondi l'hai risolto In realtà ho un sacco di tempo 30 secondi Questo Cinefact dura più del primo film di Sherlock Holmes Where do you want to do this? I'm making a decision just I'm making a decision just Oh god Èı